Tutto quello che Noelle Stein ha detto, volevo chiedergli piuttosto una precisazione. Io ho impostato il problema della misura in cui l'Occidente deve aiutare materialmente questa conversione e dei quali sono i modi più efficaci in un breve e medio termine per potervi contribuire. E dato il tema del suo libro sarei felice di sentire qual è il suo Io sono d'accordo con quello che ha detto M. Caputo su questi motivi, penso che noi deviamo agire e che l'essentielo è di se mettere d'accord su dei modi di action che permettano di evitare i conflitti. Quelle che sia la terminologia utilizzata, quelle che sono le metodo che l'on utilizzata, io penso che bisognava avere presente a l'esprimazione e al primo punto di preoccupazione la necessità di evitare i conflitti armati. Rien, io le ripeto, ne justifica una guerra e per la conquista di un territorio. Io credo che sia il fondo del problema. Io sono tutto d'accordo con la necessità di trovare i правi dei modi di mettere in fase. Voi in Pointe gevenvi un certo numero. Io constate che il a ora stessa molto difficoltà fare perché in fondo è una scontata di incompréhension tra i dei comuni di comunità europea attenzion sui modi. in action e, d'autre part, tra i paesi della comunità europea e gli altri paesi. Car, io credo che c'è veramente, on en parla a un livello dell'ONU, il y a una PACS europea a creare per rinunciare la PACS sovietica. Io terminerò proprio par là, c'è un'anecdote di Roosevelt con son figli a la conférence di T.R. Eliott Roosevelt ha detto a son paio ma insomma donna tutta l'Europe de l'Est a Staline. Et Roosevelt ha réfléchi 2 secondes, il ha detto mais oui, vous avez sans doute raison et après tout, ce n'était peut-être pas un mal. Alors pourquoi, ce n'est pas un mal ? Parce que les deux guerres mondiales, la première, celle que nous sommes en train de vivre, disait Roosevelt, novembre 1943, fin novembre 1943, proviennent de cette région du monde. Il ne veut pas assimiler les situations historiques, bien entendu. Mais, dit-il, au moins il y aura la PACS sovietica. Alors aujourd'hui, il n'y a plus la PACS sovietica. Ne la regrettons pas. Oui, cher Alexandre Zinovian, vous avez eu raison d'écrire vos livres. Et ils ont contribué à nous éclairer, en tout cas à m'éclairer sur un certain nombre de problèmes. et je vous en remercie du fond du cœur. Mais je vous en prie, ce n'est pas le moment de céder aujourd'hui que précisément l'Union soviétique n'existe plus parce qu'elle ne pouvait plus exister. Il ne faut pas avoir la nostalgie du passé, il faut voir les moyens que nous pouvons mettre en œuvre aujourd'hui, effectivement, pour créer une PACS européana. et je crois que c'est cela qu'est en cours en Europe aujourd'hui. Et Antigri, s'il vous plaît. Je vais se remercier un mot. Si, mais bien. Au micro. Je voulais rajouter seulement un mot sur le discours tout à l'heure de M. Caputo. comment aider l'Europe de l'Est étant l'origine de l'Europe de l'Est, donc je pense que je suis assez conscient des problèmes que l'Europe de l'Est actuellement affronte. Il me semble que le problème essentiel de ce moment-là c'est la culture du travail. M. Caputo a parlé de culture des marchés, de culture des offres et des demandes. mais je pense... Oui, mais pour moi l'essentiel, le problème c'est la culture du travail puisque ce monde-là a oublié de travailler. Et ça c'est le problème qu'on devrait l'aider d'acquérir cette culture du travail. Comment ? Eh oui, parce que vous devrez comprendre que le socialisme, l'arrivée du communisme apporte espoir que l'industrialisation va résoudre tous les problèmes. Avec l'industrialisation, on détruit l'agriculture, c'est-à-dire le seul segment d'économie qui était un petit peu efficace et exportatrice, on le détruit au détriment de l'industrialisation. Évidemment, on industrialise quelque chose qui ne devient absolument pas compétitif sur le plan international et au fur et à des années, on détruit tout. Et maintenant, quand je parle d'économie, quand je parle des cultures du travail, je pense aussi que le système d'éducation est complètement déformé. C'est-à-dire qu'on éduque et qu'on obtient des invalides intellectuels. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que les gens accèdent à un certain niveau d'éducation et ils ne veulent pas progresser. Ils pensaient que c'est un fin en soi et après, ils s'arrêtent à ça. Donc, ils demandent privilèges sur la base d'un certain diplôme universitaire ou l'autre. Alors, voilà, ce sont, je pense, des idées qui pouvaient mener à l'aider des pays de l'Est à sortir de cette crise. Merci. Pardon, une autre remarque brève. à Marek Halter qui n'est pas là, il a dit tout à l'heure que le franglais du tougement du président croix est antisémite. Alors, j'ai évoqué hier dans un discours assez, je pense, clair, Marek Halter n'était pas là. Décidément, on se perd toujours quand on parle à l'un ou à l'autre. mais je dois témoigner de manière absolument catégorique que rien dans différents discours de livres, d'articles et personnalités même, parce que François Trougement c'était quelqu'un avec qui je partageais les prisons, donc je le connais 25 ans, donc il n'y avait absolument rien dans cette personnalité d'antisémite. Merci. La cultura del lavoro est sans doute un autre aspect de ce que manca, de ce que le communisme a distrutte non à casse la vecchie historiella que tous vous connaissez que si diceva que il regime sovietico fingeva de retribuire i suoi dipendenti i suoi lavoratori e i suoi lavoratori fingevano di lavorare ma la cultura del lavoro può essere in un certo senso anche un sottoprodotto della cultura del libero mercato che è la prima che deve essere ripristinata nel senso che cosa abbiamo visto che è avvenuto in Occidente è nata una cosa nel bene e nel male che si chiama consumismo e il consumismo che cosa porta porta tutti noi a lavorare di più a darci da fare di più per poter procurarci i beni che il sistema mette a nostra disposizione la mancanza di cultura del lavoro nei paesi comunisti era anche dovuta alla particolare natura del regime che non offriva incentivi economici che soffocava tutto appiattiva tutto ma anche al fatto che per quanto uno lavorasse si desse da fare riuscisse a incrementare il proprio reddito poi in realtà non sapeva che cosa farsene non a caso l'Unione Sovietica prima di essere travolta dall'inflazione dalla crisi economica aveva un tasso di risparmio altissimo pur avendo dei salari relativamente bassi perché non c'era niente da comprare quindi la cultura del lavoro cioè questa corsa che qui è la caratteristica delle nostre società a migliorarci a ottenere di più a cercare di fare rendere di più la propria attività è anche un derivato di quella che io ho definito prima la cultura della domanda quindi io sono perfettamente d'accordo con lui e semplicemente le due cose nella mia mente si sovrappongono bene allora ringrazio gli onatori che questo come sono intervenuti prima di passare alla seconda serie di interventi di questo pomeriggio dieci minuti di intervallo di interventi per Grazie. 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 Bene, comunque adesso ricominciamo. Riprendiamo. E forse, dicevo, c'è il professor Carmine bene in casa, forse lui? Ah, è lì, ma è il cartello. Ah, è il cartello. Come? Come? Ah, Mondazzi. Può venire qui un momento? Anche Carmine? Anche il professor bene in casa? Prego. E Marcello Mondazzi. Ah, ecco, io quando chiamo Carmine bene in casa, stavolta adesso lui è fuggito invece. Prego. Però è intervenuto ieri, fatto uno splendido intervento. Prego. Può venire? No, puoi venire qua un momento. Non puoi venire? Non puoi venire? No. Prego. Adesso vediamo cosa dire. Anche nella sala? Sono molto felice che sia qui adesso Marcello Mondazzi. Io sono stato due volte nel suo atelier a Povezzi, alla periferia di Roma, nell'Interlanda. E' stato qualcosa come un miracolo. Mi è rimasto assolutamente sorpreso. Ne ho parlato subito a Milano, a Parigi, a San Pietropulgo, dovunque sono stato da quel momento. che è proprio colpito da questa lingua, quest'altra lingua che Mondazzi ha inventato. Una lingua di un'arte, di scrittura, scrittura, architettura, e già dire qualcosa di determinato rispetto all'interesse enorme che ha la sua opera. E già lì, con lui, man mano che, gentilmente, e questo mi rendo conto che è stato sempre disturbare un artista mentre sta lavorando, dimostrava alcuni quadri, ho cominciato a barbettare qualcosa, proprio non potevano non dare un ego, c'è pure un'impressione. Ecco, è qualcosa davvero di straordinario. Fra le tante cose che lì c'erano, mi aveva mostrato questo, che lui chiama trittico, ma in pratica ancora non c'è. Trittico è come dire, che è di tre parti, ma ancora, no? Può darsi che poi mi trovi un altro. E l'ho invitato a, gli ho chiesto di poter esporre questo quadro qui al congresso intorno al cielo d'Europa. Anche il modo di lavorare, poi una volta per lui la scommessa nuova rischia enormemente, poi questo capannone in cui si trova, con materiali, che l'utilizza, e ogni volta non sa dove, cioè, rischia dico molto, no? Perché ciascuna volta è una scommessa nuova, no? Per lui. E ho trovato un'assoluta autenticità nella sua opera. Io spero di... Poi sono tornato con Antigripota e con Carmine Benincasa e fra l'altro quel giorno dovevo incontrare una persona che ho chiesto un appuntamento da un mese e quando ho incontrato Carmine Benincasa c'era lì questa persona e mi sono accorto che era lì. Tanto che continuiamo a parlare di quest'opera di Marcello Mondazzi, che è qui dunque accanto, a noi, l'opera è anche lui, e lo ringrazio molto di aver interrotto il suo lavoro per venire qua. Lui fa mostre in tutto il mondo. Antigripota, appena visto la sua opera, poi pensando subito a un lavoro, a una mostra a Parigi, e quindi era qui Pocanzi, Grimota, credo che possa essere comunque chiamato, se non sarà da qualche parte, e voleva incontrarti proprio per stabilire con te e con il professor Benincasa qualcosa intorno a questa mostra. Credo che sarà, cioè sono sicuro che sarà un avvenimento culturale, artistico a Parigi. Attualmente mi pare che tra poco la mostra sia a Monaco, di Baviera, mentre viene da un'altra città della Germania. Io ho sempre parlato di Marcello Mondazzi e tu non c'eri qui. Vuoi intervenire? Vuoi dire qualcosa? Il professor Carmelo Benincasa, vuoi dire qualcosa in merito? No. Dice che dirà tutto poi per iscritto. E quindi io voglio solo intanto ringraziare e dare questa ecco. Il resto, i nostri congressi da vent'anni a questa parte, sono artisti, compositori, architetti, scultori, cineastica. e alcuni di voi hanno visto uno dei film, diciamo, di Tokyo, quello montato dal regista Fuxievici. E hanno avuto un'idea della combinazione appunto di cultura e arte, scienza e impresa, un'impresa libera, in un congresso. Qui si ritrovi accanto a Gabi de Gleischmann di Stoccolma, che dirige le pagine culturali di un giornale. Ha saluto anche un altro amico che è venuto dalla Norvegia e che a sua volta si occupa di un giornale norvegense e di una casa editrice in Norvegia. Bene. Qui alla mia destra invece c'è Tama Kron, che è scrittrice e teorica della comunicazione. E questo ha... No, no, non la sto passando la parola. Se tu vuoi lo posso passare. Hai chiesto che intervenga come seconda? Va bene. Dicevo che è scrittrice. Adesso ha scritto qualcosa come la novella di Gerusalemme, no? No, noi abbiamo pubblicato una raccolta di scrittori israeliani, la titola La novella di Israele. Quindi adesso pubblicheremo la novella di Gerusalemme, no? E fra l'altro, come lei, in qualche modo, lei, diciamo, si ispira a Martin Kuber. Lei diceva che era studiosa del diavolo. Poi abbiamo discusso che si tratta piuttosto, no, del termine renascimentale, della conversazione, no? E quindi della parola come originaria. E lei insegna appunto all'Università di Gerusalemme. E in realtà di Gerusalemme da genitori di Gerusalemme. Vero? Ecco. Poi qui accanto c'è Tony Brachet. Voi l'avete sentito anche in altre occasioni. Adesso lui ha collaborato con altri alla revisione della traduzione della congiurazione di Sidiò in francese. E ha fatto una prima lettura. Il libro non è ancora pubblicato. Uscirà prossimamente in Francia e poi in Italia. E quindi dà in anteprima, no? Una lettura. Ecco. E approfittando qui di Marcello, no, di Marcello Mondazzi, no? Nella presenza di Marcello Mondazzi. Volevo chiedere una... perché poi sparirà su una breve testimonianza. Devo dire che lui mi ha dato bellissimi cataloghi. Bellissimi dico perché mi piaceva, non perché... non so se fossero proprio precisi nella riproduzione. Però bellissimi perché riguardavano la sua opera. E poi c'erano testi che affiancavano questi cataloghi. Allora, a parte il bellissimo testo di Carmine per in casa, ho trovato altri testi di un certo Filiberto Menna, che noi abbiamo visto in un cuore di sua Venezia, di un altro signore che si chiama Gerardo Giorgio Lomerno e altri che, curiosamente, elencavano i loro pregiudizi dinanzi alla sua opera. Credendo in questo modo di giovare all'opera stessa, no? Sono come quei recensori che vogliono recensire gli amici senza avere letto i libri e in questo modo invitano a non leggere, no? Ecco. A me sembra che sia difficile, è veramente difficile scrivere intorno all'opera di Marcello Mondazzi. E sono contento che sia venuto qui. Io ho invitato anche gli altri artisti e anche alcuni forse sono affacciati appena e poi forse torneranno qui. Forse è una breve qualcosa, no? Posso dire, senza domande, perché è difficile fare domande. Prego. Qualche brevissima testimonianza. Qui c'è un pubblico internazionale e persone invitate. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Mi sento quasi in trappo, ma grazie per lo solo. Ah, te lo scuse, perché io proprio non desidero mai mettere in trappola. No, no, nel senso buono. Sono contento. Una dolce trappola, eh? Certo, senz'altro. Sono contento che il mio lavoro è qui presente con voi. Spero tanto che riesca a comunicare delle emozioni, poiché per me questa è la cosa che più conta. E basta. Spero che si riesca almeno a capire in questo trittico, come diceva il sorverbione, che il messaggio è sempre comunque quello dell'uomo e della storia dell'uomo. nel tentativo di recuperarne attraverso quella che per me è una parte evidente di trasformazione, di quasi istruzione, di recuperarne l'essenza vitale, di recuperarne la storia, di recuperarne le emozioni e quindi il nostro futuro. Ah, che forte. Mi segnalano da le varie parti della storia che non l'hanno sentito o no. Ma adesso, questo, questo, però, un po' è un po' è un po'. Quando riguarda invece i tanti personaggi che ho, che il mio lavoro ha incontrato, non io perché credo di avere delle difficoltà a comunicare, voglio dire, come in questo caso, poiché intendo comunicare attraverso il lavoro e poi sparire. Sparire nell'atelier, nel laboratorio. Credo che i tanti incontri di persone che comunque addetti ai lavori e non, comunque persone sensibili ai problemi dell'arte che poi abbiano scritto, si siano espressi in un certo modo, credo che per me sia stata una crescita e spero che lo sia stato anche per coloro che si sono interessati al mio lavoro. Sono molto contento di questi miei ultimi incontri, di questi incontri di grande spiritualità, grazie al professor Benincasa, grazie anche al professor Verdiglione. E dentro di me c'è questa, come posso dire, questa ricchezza in più e spero di filtrarla attraverso il mio lavoro per restituirla anche agli altri. perché oggi l'arte ha solo questa funzione, credo, non è altro. Cioè di comunicare, di dare, al di là degli ismi, delle storie, dei raccontini, che non credo ormai interessano i pochi. Bene, quindi ringrazio. Quando hai cominciato a dipingere? Beh, da sempre credo, a cinque anni ero già cattivo perché scarabocchiavo con i lucidi delle scarpe o con i rossetti di mia madre, mi ricordo i profumi della crema livea, vecchissima, quindi direi da sempre. C'è stato un periodo in cui non sei riuscito a dipingere? No, mai direi mai. Anzi, adesso per me questo è un problema perché vorrei quasi quasi uscire fuori dalla trappola della pittura, ma non riesco perché c'è stata questa, ormai fa parte della mia vita, della mia pelle, quindi è un problema. Bene, ringrazio. Grazie. Saluto Alberto Bevilacqua, intanto vorrei dirgli che ieri pomeriggio, stamattina e oggi pomeriggio, il suo intervento è stato ripreso da quasi tutti i relatori, quindi con la bellissima eco, è partito poc'anzi Mare Carter, che voleva appunto conoscerti, che è partito pure già all'estate, che però vuole intervenire quella sera, quindi leggere il libro, lui non era ancora corrente. Vuoi venire qui con noi? Vieni. Bene, allora... Allora, cominciamo con Tony Brasceva. Prego, avviciniamo il microfono, sì. Non so se la dottoressa Damburini abbia il testo, ma comunque forse lui legge... E l'ha il testo, già? Votro testo? No. E non l'ha pas. Donc, je suis che vous allez lire l'antimo, l'antimo. È una maniera italiana di dire, sono sicuro che leggerà lentamente, no? No, no, tutto bene. C'è una seconda lettura. Ah, la conjurazione desidio. La conjurazione desidio, la provoca della conjurazione desidio. E l'antimo, l'antimo. Non, non, la prima del Cine. Il s'agit donc d'un libro d'Armando Berdeglione, qui va apparaître dans quelques semaines, je crois. In qualche moa. In qualche moa, in france. in raffermando questo libro dopo la seconda lettura una lettura un po' distanzia mi sono domandé se non ritenessi qu'un aphorismo il quel? e io l'ai trovato in modo irréfléchi tutto a fatto a la fin del libro un libro che ne consomme apparemment le questione théoriche ancora meno le questione storiche della psychanalyse per esempio le questione del lacanismo del lacanismo io l'ai trovato in l'aphorismo l'acan e l'aristote manca cet aphorismo me parla in tant che philosophe d'information e io me sono domandé a quel signifiant il poteva se réfere par exemple l'aristote il y a due concepts qui ont émergé tout de suite le concept d'école fondamental pour le lacanismo comme pour l'aristotélisme e il concept de la feminità alors pour l'école c'est un po' très intéressant et qui permet de faire le lien avec le reste du livre où il est dans l'aristote question de ce que j'appellerais l'école d'inquisition c'est à dire l'ensemble des corporations psychopharmacologiques policières juridiques et idéologiques qui ont organisé ce qu'on appelle chez nous l'affaire Italie et chez vous peut-être l'affaire Verdunione alors chez Lacan ce concept d'école doit résulter d'une certaine fusion de ce que l'humain avait pourtant distingué sous le nom de discours analytique et de discours universitaire en tant qu'une école est d'abord quelque chose de diversitaire nous savons que cette école a été fondée dissoute refondée elle sera sans doute redissoute et ainsi de suite elle apparaît comme une sorte de phénix caricatural ce phénix qui est l'emblème de la logique des relations chez Verdunione est aussi caricaturé par la figure du psychopompe c'est justement cet ensemble de corporations qui a organisé entretenu le procès et c'est donc une même mythologie et nous verrons par la suite en quel sens Lacan peut être considéré comme la cause lointaine de l'enfermement de la psychanalyse la question de la femme est aussi une question en retrait à cette question de l'enfermement dans un séminaire de 1972 Lacan prétendait effectivement rectifier Aristote sur la question du féminin soustraire le féminin à la symétrie avec le masculin comme toutes sortes de courants essayent de le faire et pour cette construction Lacan a sollicité ou a construit ce qu'il appelait l'autre jouissance la jouissance de l'autre la part incastrable ou encore la part divine de la féminité et pour aller vite je dirais que à mon avis il s'est mis tout de suite dans la position même de sa télérité c'est à dire c'est à dire que lui-même a réussi de certaines façons ce que Schreiber Clérembo et l'autre ont manqué sans doute aussi ce que Aristote a manqué qui pose bien un dieu transcendant un dieu forme pure sans matière mais ne s'identifie pas à lui alors je voudrais montrer que Lacan m'a bien pris cette position de transcendance qui est amenée de la cause lointaine de l'enfermement de la psychanalyse à travers quelques écrits et positions théoriques ainsi qu'à travers le point d'application en particulier en rapport avec la situation italienne de la psychanalyse dans l'écrit de 1945 maintes fois repris et commenté par lui le temps logique et l'assertion de certi de l'anticité Lacan construit l'image d'une prison avec trois prisonniers trois détenus et un directeur qui est lui le détenteur d'une logique d'un savoir qu'on peut transférer sur le sujet supposé savoir et ce directeur propose aux prisonniers pour des raisons inconnues qui semblent à l'extérieur du texte des raisons ludiques la logique pure la liberté en échange de la logique alors l'apologue est assez connu je vais le résumer rapidement trois prisonniers qui ne peuvent pas se voir dans un miroir son miroir se voit fixer chacun dans leur dos un disque d'une certaine couleur noir ou blanc il existe un total de cinq disques que l'on présente aux prisonniers trois sont blancs deux sont noirs on fixe aux deux de chaque prisonnier un disque blanc un raisonnement de logique parfaite pure et parfaite doit les amener à conclure à la couleur de leur disque à eux et ce raisonnement se fonde sur l'attitude des co-détenus en effet le prisonnier nous appellerons A raisonnant de la façon suivante s'il est un pur logicien puisque je vois que C par exemple porte un disque blanc B lui s'il me voyait noir penserait que si C le voyait lui aussi B noir il conclurait et s'il n'y a que deux disques noirs qu'il est blanc il sortirait les trois prisonniers qui sont de pur logicien concluent au même moment se fondant sur l'immobilité de leurs voisins ils s'ébranlent ils prennent le chemin de la sortie pour expliquer au directeur ce qu'ils ont conclu et ainsi qu'il est la liberté mais que va-t-il alors il voit que les autres s'arrêtent et chacun s'arrête parce que le raisonnement se fondait justement sur l'immobilité dès lors que chacun s'ébranle il s'écroule il y a alors un temps de désarroi qui correspond à ce que l'accord appelle dans la cure le temps pour comprendre il y a l'instant de voir il y a le temps pour comprendre il y a le moment de conclure bien sûr ce moment arrive aussi lorsque s'apercement qu'il n'y a pas d'autre solution ils se remettent en chemin et sortent tous les trois en Italie vers 1973 il y avait trois psychanalystes c'est-à-dire qu'il y avait trois lacaniens qu'on appelait le tripode et auquel fut proposée une association sous la coupe de l'issette Grazie a tutti. 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 l'automatismo mental, al senso di Clérambo, un del maestro Delacan, e c'è un caso di auto-influenza. Il è una machinea influenzata, come c'è Taosk, è interno. Il malade, non mi ha detto, non è manipulato, non è paranoiaque in questo senso, ma il souffre d'incompréhensione. Magdalena, il texte, possiamo poterlo copierre? Forst ska tenere la notazione. Oui, è in dettaglio di lo leggere? Difficilemente. Le poter copierre e lo distribuir. D'accord. E voi proseguire. D'accord, io vorrei assicurare. Non, non, voi proseguire, ma per il ha un texte in question, per la la persona copier e lo distribuir. Très bien, très bien. Alors, vous verrez donc comment ce texte se present. Il sice di un eschange assez vif entre ce caso, un homme di excessive intelligence, e che accusa Lacan d'enfermamento, che accusa Lacan di pensare di una forma geométrica. Oh, non all'inizio, ma all'inizio di un long dialogo dove si cercano a farlo entendere Lacan che non sa niente, che non sa niente, che non sa niente, ma non sa niente, ma non sa niente, non sa niente. Quindi credo che ci vuole la pena di le photocopierare. Alors, l'Aristote manqué, c'est aussi celui qui veut fonder un ordre des choses éternelles, un ordre métaphysique, un ordre hors du temps, et qui par là manque le temps, et qui manquant le temps, manque aussi l'espace. Quel espace ? C'est bien sûr, à mon avis, l'espace européen. Et je crois que, ici, au contraire, cet espace s'ouvre. Il s'ouvre facilement sur le temps de l'Europe. Et par rapport à ce temps-là, je ne suis pas du tout pessimiste, peut-être par innocence, par inconscience, comme certains conférenciers précédents. Je ne crois pas non plus que cette Europe-là puisse avoir des frontières, de quelque genre que ce soit, linguistique, culturelle, ideologique ou autre, faute de quoi nous risquerions d'autres enfermements. Un jour, merci. Diciamo che ancora è una testimonianza questa, no ? Piuttosto, intorno alla sua esperienza a Parigi, no ? più che per il momento, più che intorno al Libra. Di cui trovate due pagine nel secondo nascimento, che è praticamente l'apologo sulle lucere. Il libro verte intorno a tutt'altra faccenda che l'account. Comunque, ne riparleremo quando sarà uscito. Allora, adesso siamo qui con Tamara Cron, di cui vi ho parlato prima, di Gerusalemme, scrittrice, pubblicato alla novella di Gerusalemme che ci stiamo interessando, e intanto è teorica della comunicazione all'Università di Gerusalemme. Le passo la parola. Prego. Le parla in inglese, e quindi munitevi degli affarecchi per coloro che vogliono seguire in italiano, in francese. Dear friends, I'm sorry I have to speak in English to you, and so I cannot be in a real dialogue with you, but as my friend Gabby said yesterday, we still have the problem of different languages, and until we will have one language, maybe Europe will not be united. I'm happy and honored to be here today, and have the opportunity to talk to you. From what I have seen and heard since I came to this congress, I'm impressed by the wealth of intellect and culture that Professor Rodiglioni gathered here, and Grazia. I was also intrigued by some similarities which I found between issues and ideas that were talked about here, and issues of importance in my country. Listening to some of the debate, a concept from dynamic psychology came to my mind, about the return of the repressed, to describe some of these issues, for in this renacimento, one can hear voices from the deep, voices from the repressed past, ideas and emotions. For example, I refer to what the people of Croatia talked about, the guests from Ukraine. This idea of the return of the repressed brings me to my topic today, and I want to talk about the dialogue of images of Jerusalem and Europe. There is a dialogue between Jerusalem and Europe which has been going on for hundreds of years. It is neither political nor social-economical. It is a dialogue of images. This dialogue of images is interwoven into human lives. And its expressions can be found in narratives of personal and family histories, as well as in religion and creations of art and literature. As I am a writer, I find no better way to involve you in this dialogue than to present to you my own inner dialogue of the images of Jerusalem and Europe. Are we not the metaphors of ourselves? Historically, this is the story of my family, but metaphorically, it is the unfolding of a deep, conflictual, ever-living relationship. My personal history is one of a generation, the generation of children born in Israel to parents who came there from Europe. And much like many other histories of this generation, it has been interrelated in many ways to developments and events in Europe and in Jerusalem. I was born in Jerusalem, was educated in Jerusalem, developed my professional career in Jerusalem, and have been writing in Hebrew in Jerusalem. You can say that I am a made-in-Jerusalem product. But my intellectual and spiritual heritage is intertwined with European history and culture. My parents came to Israel in the 30s, my mother from Vienna, Austria, and my father from Mosir in Bielorussia. Both left Europe to go to build their own new old country, leaving leaving behind them their past, which was later destroyed, and their families, who were later killed by the Nazis. They tried to repress and forget Europe, which threatened to devour them and rejected them. They were keen on developing a new culture, which will not be rooted in European soil. I grew up incorporating their inner images of the destroyed and destroying Europe, the wound inflicted which is so hard and maybe will never heal. But this image involves also the deep-rooted culture and the history of generations. In my parents' home, the language spoken was Hebrew, but my childish ears heard also German and Russian. On the bookshelves, I found, beside the books in Hebrew, books in European languages, Heine in German, Pushkin in Russian. In the photo albums, I could look at pictures of the places, places where my parents spent their childhood and adolescence. The bedside stories my father told me when lulling me to sleep were about the river in Mosul, the ice and snow in winter, the deep woods, the life of which we do not have in our country. The tales, the mercy my grandmother told me and the lullabies she sang to me were German. After they married, my parents moved to Jerusalem where I was born and where I live with my children. My early memories are memories of the siege in Jerusalem in our war of independence, but I grew up in a city which has always been struggling within itself with religious and ethnic tensions and intense emotions. To be a Jerusalemite means to belong to a certain elite but also to be different in many ways. It meant when I was a child to be pale and not to know how to swim, not to be like other Israeli kids, to be more polite, to prefer books more than sports, in other words, to be more European style. To be a Jerusalemite means to be intellectual and perhaps liberal but also to be a patriot of Jerusalem. To be a Jerusalemite is a hardship, a danger, and a pride. And there is another deep and important aspect to live in Jerusalem. There came the moment that I realized that I grew up and live in a place which does not have geographical, physical and social qualities only. Jerusalem is also the holy city that Yerushalayim is the Jerusalem of gold, a spiritual and cultural image. I realized that for many the concrete daily life Jerusalem does not exist. It exists in the mind as a spiritual concept and a dream. I believe that for many Europeans this is the Jerusalem they know, which in many ways resembles the Rome they have as an inner image. Surely the concrete and the spiritual Jerusalem and Rome have had faithful points of meeting and interconnections in the history of mankind only to mention the most significant historical event which became the basis for religious belief and unluckily have had also its tragic consequences the crucification of Jesus Christ by the Romans in Jerusalem. Realizing the metaphorical spiritual significance of the concrete city where I have lived opened for me the way to the inner dialogue between my conflicting images of Europe bringing me closer to my parents European background trying to connect it with my life as an Israeli and a Jerusalemite. This inner dialogue is expressed in my novella which is called Via Dolorosa. The novella ends with a painful journey of two women one sick and one therapist nobody knows who is who through the real and the fantasized Via Dolorosa while the two women who might stand for different parts of me maybe or of Jerusalem while they run their identities fuse until it cannot be told who is the victim who is the victimizer and who takes care of whom. With your permission I would like to read to you the last paragraph of the novella which I translated from the Hebrew. Last night I had a dream. There I stand in the lighted square of the Chiesa del Santo Sepulcro amongst a silent crowd Nora is falling from the top of the tower her golden hair float in the air her white gown flaps behind her from the top of the tower she rises all stricken and terrified the crowd shriek nailed to their places they watch the big white bird flying her body glimmering in the sunlight up into the heart of the deep skies she is becoming smaller vanishing in a minute she will disappear rooftops of houses start slowly to tear out of their places ascend in the air float and sail upwards leaving behind them beheaded houses hovering chimneys church vaults and crosses the skies fill up with rooftops arches and domes flying bells ring with perturbation the city undresses her tops strips naked from her covers and they all rise in the sky a sea of rooftops floating away further and further getting smaller and smaller until they seem like a band of birds flying into the sun our times are imbued with promises for the future it is indeed il secondo in a cemento of Europe with many unpredictable changes which have been influencing the conditions and state of people both in Europe and in Israel and one of the circles in my life again in real and as a metaphor is closing my relatives from what used to be the USSR come now to Israel evoking memories from my own and my parents past together with old pains and new longings Jerusalem is absorbing the newcomers its delicate but firm fiber molding itself anew as it did in hundreds of years past this is the time for reconciliation for enabling my present be involved again with my past for the images of Jerusalem and Europe to relate in a new dialogue thank you thank you we will take this question of Jerusalem and Europe e fino a domani sera e abbiamo fatto un congresso a gerusalemme nel primo dicembre del 83 freud a gerusalemme e poi dopo una cosa avuto un seguito allora gabby intervento non è il suo intervento che farà domani non è un intervento prego e well thank you tomorrow for eloquent touching very interesting contribution to this debate and what I wanted to say is a brief remark that you partly touched upon and the idea to say these things was born after the speech of Marika tear and I think the right moment to say it's now because tomorrow I know geese carpetta will talk about these things what I wanted to say is as Jerusalem there is to what there are two Jerusalems and imaginary and the real and there's a big discrepancy between the two I think it's the same with Europe we have two different Europe in our minds in our reality and also when Marika tear earlier talked about central Europe it's a very nostalgic picture we have a central Europe picture of Milan Kundera's and others when we talk about the birth of modernity in architecture in literature psychoanalysis painting music so many new things born in a time when old values became very old not valid anymore and there were no new values yet it was an interregnum in that much of what we in 20th century think is very important was born but at the same time there was also a regression what Tamar was talking about the return of the repressed with the birth of the modern world there was also a regression towards the old world a big challenge against modernity which we know in a very brief name of Hitler it was also born in this area and it's part of the reality of course and what I have a certain kind of fright or fear is that I understand the legitimacy of all nations in Europe of course to strive after independence and so forth but at the same time what I feel we are heading towards at the moment when we create a unified Europe also a certain amount of tribalism which could endanger the whole project of what we all believed in the occidental civilization but may we can continue to talk more about it tomorrow when Ghi Scarpeto will have his intervention and we will have the possibility to have a debate about that thank you Allora è tanto evocato quindi forse di scarpettare adesso sì Allora il abbiamo discusso nell'ultimo anno molto il libro sul romanzo sull'Italia di Ghi Scarpettà l'altro passato a Ghi Scarpetà anche una copia del romanzo Ghe du passion di Alberto Pivillacqua discuteremo poi 23 sera no a Parigi allora è il titolo dell'intervento è cambiato il l'ambino l' gambito della riflessione Metético di riflessione sull'europe�를 l'europe difí阻 tenim Allora kg Allora J'ai commencé a parlayí La charte intellettuale dell'Europa. 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 La charte intellettuale dell'Europa.